Buongiorno, mi chiamo Simone Ricceri, sono un tabacchicoltore umbro. Come tale considero la peronospora come la principale fitopatia che colpisce il tabacco e quindi da tenere molto sotto controllo. Dall'anno scorso nella strategia di difesa della cultura ho inserito un prodotto dal profilo tossicologico molto favorevole che si chiama Ranmantop di Belchim. Effettivamente ho potuto vedere che nonostante qualche pioggia caduta anche nel mese di agosto la cultura è rimasta comunque pulita fino alla fine. Evidentemente il principio attivo di questo prodotto di Ranmant si lega in modo efficace alle cere della foglia del tabacco, quindi rimanendo persistente a lungo. Sono rimasto soddisfatto di come lavora il prodotto, sempre tenendo presente il profilo tossicologico molto favorevole che oggi è una cosa di primaria importanza per la difesa delle piante. Quest'anno sicuramente ripeterò il prodotto nella strategia di difesa dalla peronospora in quanto, come ripeto, l'anno scorso non mi ha dato nessun tipo di problema fino alla fine.